Buongiorno a tutti, ben ritrovati nel mio canale. In questo video vi voglio parlare dell'importanza del lavoro di crescita personale che noi tutti possiamo compiere in autonomia con noi stessi quotidianamente. Questo lavoro è fondamentale e deve essere condotto con costanza. L'aspetto più importante di tutti di questo processo di consapevolezza riguarda l'autoosservazione. Noi possiamo seguire un percorso assumendo i fiori di Bach, possiamo fare delle periodiche e sessioni di counsel, possiamo intraprendere un cammino con alcune discipline del corpo come la bioenergetica, il tai chi, tantissime altre discipline che hanno come scopo anche quello di renderci consapevoli. Ma se evitiamo quei venti minuti quotidiani in cui ci fermiamo, fermiamo le macchine e osserviamo come ci sentiamo, ci mettiamo qualche minuto in meditazione. Cerchiamo ispirazioni per comprendere attraverso una modalità intuitiva quali sono le direzioni che ci vengono suggerite attraverso la nostra intuitività e quindi se noi tralasciamo il lavoro quotidiano con noi stessi difficilmente potremo raggiungere obiettivi importanti rispetto alla nostra crescita personale. E uno di questi obiettivi importanti a cui io tendo a portare le persone che lavorano con me è l'indipendenza. L'indipendenza che vuol dire mi rivolgo a qualcuno perché in questo momento ho bisogno di qualche fiore di Bach che mi aiuta, mi rivolgo a qualcuno perché ho tanto disordine nelle mie emozioni, non riesco a superare certi blocchi, ho bisogno di una guida esterna e questo accade a tutti. È stato qualcosa che in passato io ho avuto, una guida esterna e nel momento in cui sentirò l'esigenza, essere anche semplicemente nel momento in cui aumenteranno i clienti con cui lavoro sicuramente ricorrerò ancora a questo aiuto esterno. L'aiuto esterno è fondamentale per chi inizia, è importantissimo per chi a sua volta aiuta gli altri ma altrettanto importante è il lavoro che quotidianamente noi svolgiamo con noi stessi. Questo tipo di lavoro ha varie sfumature. Quando noi iniziamo un lavoro di consapevolezza il primo risultato a cui approda un lavoro di autoconsapevolezza è quello di porci di fronte a una grande verità che è quella che noi spesso non sappiamo chi siamo, non sappiamo quali sono i nostri talenti, non sappiamo quali sono le nostre peculiarità, non abbiamo focalizzato bene qual è il nostro scopo di vita, la nostra missione. Per cui la prima fase di questo tipo di lavoro è un lavoro di ricerca ed è un lavoro di ricerca di sé. Sicuramente soprattutto se iniziate questo percorso che avete qualche annetto in più dei classici vent'anni e di solito accade quasi sempre così, avrete già avuto modo di comprendere quali sono gli argomenti che più vi colpiscono, le materie che più vi piacciono, il tipo di lavoro in cui potreste realizzarvi. Ma il mio consiglio è proprio quello di ricercare e farlo anche attraverso metodi che sono più o meno universalmente riconosciuti e che possono aiutarvi a comprendere qualcosa in più di voi. Per me è stata molto illuminante la scoperta del calendario Maya e la conoscenza del mio kin di nascita che tra l'altro parla appunto del lavoro che io faccio e del motivo per cui io faccio questo lavoro. Magari poi lo condivido con voi nel link in descrizione. Queste sono praticamente poche frasi ma che riassumono moltissimo di me e mi hanno proprio aiutato all'inizio a mettere a fuoco quali erano i miei obiettivi e a comprendere anche la particolarità che io avevo. Nel senso che sicuramente io ero una persona predisposta ad aiutare gli altri ma ad aiutarli in un modo particolare e in momenti particolari. non tutti i counselor sono uguali. Ci sono dei counselor che aiutano le persone ad affrontare le problematiche di salute e quindi ad affiancare anche trattamenti medici o percorsi in cui si utilizzano anche i metodi della medicina classica di fronte per esempio a delle patologie gravi. Ci sono dei counselor che aiutano nelle relazioni, che aiutano due persone a riscoprire la motivazione che le tiene unite, che le ha fatte diventare marito e moglie o una coppia o per esempio soci nel mondo del lavoro e a riscoprire una modalità funzionale per continuare a portare avanti questa unione sia essa professionale che di vita. La mia specializzazione che è scritta proprio in questo kin è quella di portare le persone a tirare fuori il loro talento e ricollegarsi alla loro missione di vita affinché tutte le persone possano avere un uguale valore. perché nel momento in cui una persona fa un lavoro che sottostima le sue capacità non comprende chi è, non comprende cosa è venuto a fare in questo mondo è una persona depotenziata e a me non piace che le persone sprechino le loro vite che non fanno onore a ciò che loro sono e per cui il mio counseling è volto soprattutto a fare in modo che le persone scoprano le loro qualità e questa è proprio la mia peculiarità ciò non toglie che io nel mio lavoro ho anche aiutato delle persone che avevano delle problematiche di salute a focalizzarsi sulle cause profonde che generavano questi problemi oppure che abbia aiutato delle persone anche a risolvere delle dinamiche sentimentali ma il motivo per cui io mi sono avvicinata a questo lavoro è quello espresso dal mio kin anche altre discipline mi hanno aiutato a comprendere meglio me stessa ad esempio il fatto che io riesca di solito abbastanza bene a comprendere le cause dei problemi che mi portano i clienti dipende dal mio stellium quindi dall'eccesso di pianeti nel segno della Vergine penso e questo mi è stato fatto vedere da una persona che mi ha analizzato il tema natale quindi astrologia e anche questo è un canale che potete utilizzare quando siete alla ricerca del vostro scopo di vita quando volete capire chi siete quando volete capire cosa dovete portare nel mondo per esempio ci sono anche altre tecniche altre discipline la numerologia la cosa sorprendente è che quando voi farete dei consulti con esperti di queste discipline scoprirete che in realtà vi consegneranno un'immagine di voi identica, analoga per cui ciò che vi confermerà l'astrologia ciò che vi dirà l'astrologia sarà confermato dal vostro tema natale numerologico e il kin servirà semplicemente per mettere ancora più a fuoco per mettere a fuoco ancora meglio alcune cose importanti di voi, della vostra persona di quello che la vostra anima in questa incarnazione ha deciso di esprimere quindi sicuramente il punto da cui partire anche rispetto proprio all'autoosservazione, all'osservazione di sé è quella di cercare di avere molti elementi che vi dicano voi chi siete che vi aiutino a comprendere chi siete e questo può aiutarvi tantissimo anche quando poi sceglierete di essere aiutati in un percorso di counseling o con la floriterapia la cosa interessante è che spesso le cose per cui siete portati sono presenti anche nella vostra vita sotto forma di problemi per cui la prima persona di cui vi dovete occupare siete voi stessi proprio anche per arrivare al vostro scopo di vita non è all'esterno che troverete elementi di chiarificazione del vostro ruolo di ciò che dovete fare nella vita ma è guardandovi dentro e guardando le vostre più grandi difficoltà perché è lì che si nascondono anche i vostri più grandi talenti torniamo al lavoro di autoosservazione quotidiano e alle pratiche quotidiane che io consiglio perché arrivati ad un certo punto nel percorso di consapevolezza la cosa fondamentale è riuscire a muoverci non più secondo uno schema scritto dalla nostra mente ma secondo una serie di percorsi che noi vediamo apparire davanti a noi e ci vengono suggeriti dalla nostra intuizione in accordo con il piano divino e quindi in accordo con il nostro percorso e progetto di vita fino a che restiamo nel mentale spesso ci ingabbiamo in situazioni in percorsi che ci tengono lontani dagli obiettivi che siamo arrivati qui per raggiungere una pietra migliare di questo tipo di percorso cioè dell'autoosservazione quotidiana è la meditazione la meditazione di cui ho parlato in un video sul canale e che consiste semplicemente nel sedersi con la schiena ben diritta rilassati con gli occhi chiusi respirando profondamente all'inizio fino a quando accade qualcosa per cui spontaneamente i pensieri si dissolvono e voi sentite e questo ve lo passo proprio perché è una cosa di cui io mi sono resa conto recentissimamente quando si entra in meditazione accade proprio lo stesso meccanismo che c'è nel telefono cellulare che io sto utilizzando per registrare i miei video quando si gira la telecamera per cui è come se ci fosse un occhio e io non so dirvi se è il terzo occhio ovvero se è sto chakra o se è la pineale se è qualche altro organo sottile o meno che noi possediamo ma è come se questo organo che non so se è presente come organo fisico nel nostro corpo o se è una sorta di obiettivo sottile che noi abbiamo smettesse di essere focalizzato all'esterno di noi e rivolgesse lo sguardo all'interno sentite proprio questo passaggio e questo passaggio segna l'inizio della meditazione è una cosa di cui io mi sono resa conto recentissimamente quindi quando sarete un po' più esperti quando arriverete a sospendere i pensieri a guardarvi dentro sentirete anche voi che si è spostato lo sguardo e l'attenzione dall'esterno a qualcosa di molto più profondo e interiore e quella è la meditazione perché è importante la meditazione? innanzitutto perché nella meditazione noi comprendiamo che esiste uno spazio interiore costituito da pace e amore che è lì si trova dentro di noi e nessuno può violarlo e ogni volta che noi desideriamo lo possiamo raggiungere io ho provato a entrare in meditazione con un mal di testa molto violento con all'epoca quando ancora avevo il ciclo mestruale con un inizio di mestruazione particolarmente doloroso e vi assicuro che pur continuando a sentire il dolore riuscivo a percepire questo luogo di pace che contribuiva a rendere meno forte la sensazione dolorosa e lo stesso dicasi nei momenti in cui mi sento tribolata per questioni della vita piuttosto che agitata per una preoccupazione e poter raggiungere questo luogo di pace che si trova dentro di noi ci permette quel distacco necessario per analizzare ciò che stiamo vivendo da quello che c'è all'esterno dal mondo esterno ma anche dalle nostre stesse emozioni per riuscire ad osservarle e per dire sono soltanto le mie emozioni io già in un video vi avevo raccontato che in un momento particolare della mia vita in cui ero incerta rispetto al futuro e c'erano questioni piuttosto pesanti in gioco sono riuscita quando di notte mi partiva la tachicardia ripensando a quello che stavo vivendo sono riuscita a entrare in meditazione a guardare questo sentimento di paura e a dire questa è soltanto la mia paura e in quel momento anche i battiti del cuore hanno rallentato quindi la meditazione è un'ancora di salvezza ma è anche un luogo perché si tratta di un luogo in realtà in cui noi possiamo ritrovare le energie riempirci di tutte le energie che ci servono energie sto parlando soprattutto spirituali energie sottili che ci sostengono è il luogo in cui possiamo anche incontrare le nostre guide ovvero il luogo in cui a un certo punto possiamo capire che non siamo soli che ci sono delle presenze capaci di donarci conforto e anche qualche volta di suggerirci delle direzioni quando non siamo capaci di scegliere quindi il mio consiglio è di inserire nelle pratiche quotidiane la meditazione e in alcuni momenti in cui c'è poco tempo per farlo possono bastare cinque minuti se c'è l'allenamento e l'abitudine alla meditazione quotidiana prima o dopo il momento in cui decidiamo di meditare è opportuno anche soprattutto se decidiamo di spostare il momento della meditazione alla sera è importante anche fare una revisione della giornata e cercare di capire come ci sentiamo rispetto a quello che abbiamo vissuto vi suggerisco di farla alla sera la revisione della giornata è utile alla sera e quindi a questo punto del video che non ho particolarmente preparato dividerò le pratiche che vi consiglio di fare la sera da quelle che è importante fare la mattina al mattino è importante riprendere il contatto con questo corpo quello che abbiamo lasciato nel momento in cui ci siamo addormentati e che ritroviamo assonnato e molte volte distante la mattina quando riprendiamo la giornata quindi è utile sentire il proprio corpo sentirlo magari praticando una doccia non troppo calda asciugandoci massaggiando vigorosamente il corpo può essere utile una serie di esercizi che possono allo yoga per chi pratica yoga io per esempio non conosco lo yoga ma pratico comunque una serie di esercizi tra cui quelli di radicamento e lo devo fare per la mia ferita da rifiuto che è sempre in agguato e quello del corpo è importante praticarlo la mattina e anche nel momento in cui avete tempo qualche minuto di meditazione non dico tanti possono bastare anche 5 minuti la mattina se sentiamo di aver bisogno di guardarci dentro un'altra attività importante da fare la mattina è quella di annotarsi i sogni ricordiamoci sempre che quando lavoriamo su noi stessi il lavoro consiste nel portare verso l'aspetto conscio della nostra coscienza quelle parti inconsce che sono quelle che agiscono sia dal punto di vista della fisica quantistica attraendo gli eventi anche quelli che noi non desideriamo nella nostra vita sia i mandati genealogici piuttosto che le paure che ci trasciniamo da vite precedenti nell'inconscio c'è tutto questo e nel momento in cui noi impariamo ad analizzare i nostri sogni rispetto anche al vissuto che stiamo attraversando in quel momento riusciamo a fare molta chiarezza io ho sperimentato il lavoro con i sogni rapportato al corporeo emozionale e sono uscite durante le sessioni delle consapevolezze stupende per dei clienti con cui ho lavorato di conseguenza i sogni sono ricchi ricchissimi di messaggi quindi il mio consiglio è quello di annotarveli e se in quel periodo siete seguiti da una psicologa da un counselor o state facendo anche un percorso con i fiori di Bach è utile condividere i vostri sogni con la persona che vi sta seguendo perché se è una persona preparata potrà darvi delle illuminazioni anche rispetto a questi sogni potrà aiutarvi a comprendere il messaggio che l'inconscio ha voluto portarvi quella notte e questo è un lavoro da fare la mattina il lavoro da fare la mattina è essenzialmente quello di annotarli i sogni per quello che riguarda l'interpretazione sarà da riservarsi ad un momento in cui avete più tempo il mio consiglio è quello di prendervi alla mattina qualche minuto anche dieci minuti non di più e la sera potete quando avete tempo perché non tutte le sere sono uguali potete anche restare una mezz'oretta a praticare il lavoro di rivisitazione della giornata una meditazione un pochino più lunga e profonda e nel lavoro della sera potete inserire anche pescare una carta aprire a caso uno di quei libri che contengono delle frasi che possono essere utili in alcuni momenti inserire comunque nel lavoro quotidiano su di sé anche qualcosa che stimoli l'intuizione è fondamentale perché noi ci muoviamo attraverso l'intuizione e spesso attraverso l'intuizione raggiungiamo proprio quelle strade ardite che se dovevamo ragionarci sopra non avremmo mai preso e l'intuizione a volte ci fa fare cose strane ci fa entrare in un negozio anche se non abbiamo bisogno di comprare niente che è in vendita in quel negozio semplicemente perché dobbiamo conoscere la commessa a me è capitato una mia grande amica era una persona che io ho conosciuto perché sono entrata nel suo negozio o meglio nel negozio che non era suo nel momento in cui lei era presente come commessa e da lì abbiamo scoperto che avevamo un mondo di cose da condividere per cui in questo video che è già stato lungo e che concluderei qui dobbiamo comprendere che quando decidiamo di lavorare su noi stessi per raggiungere la possibilità di esprimere il nostro scopo di vita dobbiamo sviluppare la presenza dobbiamo poter disporre di un corpo che ci è alleato e quindi che è in salute di cui siamo diventati capaci di leggere i messaggi che ci invia a volte anche con qualche piccolo malessere e sviluppare la capacità di stare nel momento presente con la giusta vigilanza per poter osservare per poter intuire è così che compiamo veramente un viaggio di consapevolezza è così che possiamo spostarci di molto dalla vita che stiamo facendo ora a quella che desideriamo che vorremmo fare è così che possiamo accedere al potere di manifestare senza la revisione quotidiana noi possiamo migliorare sicuramente la nostra vita arrivando a delle consapevolezze ma non abbiamo la possibilità di continuare a lavorare e continuare a intraprendere quei piccoli cambiamenti che spesso sono quotidiani e che ci avvicinano a quella che è la nostra vita vera sempre di più è per questo che io caldeggio sempre un lavoro quotidiano con se stessi è stato molto utile a me e sono sicura sarà utile molto anche a voi sto iniziando a lavorare anche su una pagina instagram che per ora è soltanto a bozzata quindi non vi mando neanche il contatto per ora e lì porterò proprio questo tipo di lavoro il lavoro su di sé anche perché sarebbe inutile introdurlo sul canale altrimenti ci sarebbero troppi argomenti di cui io tratto e quindi vi lascio questo video spero che per voi stia stimolante e nel frattempo in questo periodo che è un periodo di ferie quindi che è un periodo in cui anche sto seguendo meno clienti del solito mi occuperò di curare account su instagram in modo da fornirvi tanto materiale rispetto al lavoro quotidiano che potete fare con voi stessi e parlerò anche delle intuizioni di come si lavora con i sogni questo per chi di voi fosse interessato a questa parte e mi auguro che sarete tanti perché i risultati che si possono raggiungere quando oltre a un percorso di consapevolezza mediato dai fiori o guidato da un percorso dal counseling può farvi raggiungere dei risultati stupendi può farvi raggiungere veramente quella trasformazione a cui tutti aspirano può farvi raggiungere la completezza e la piena espressività di ciò che siete questo video termina qui è stato un video improvvisato ma che ci tenevo a fare perché è importante vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nel prossimo ciao